Il problema non è sapere che cosa vuole fare Berlusconi, il problema credo che ormai sia arrivato a un livello tale che sta crescendo a dismisura il partito del tanto peggio, tanto meglio e mi riferisco alle piazze di Torino e di Milano strapiene ai cominci di Grillini e di Grillo, per cui ho l'impressione che tutte queste cose che stiamo dicendo alla fine dovranno fare i conti con questa sfiducia di gran parte dell'elettorato. Allora qual è la soluzione direttore? Lasciamo che il tanto peggio, tanto meglio trionfi o c'è bisogno di qualcuno che con senso di responsabilità si opponga a questa marea montante guidata da signor Grillo che è certamente un capace interlocutore delle folle e sta portando tutta questa gente a pensare di poter picconare e distruggere tutta la politica che esiste, mandare a casa tutti i politici che esiste, mentre invece riusciranno soltanto a mandare Bersani e vendola al governo? Perché cosa può volere arrivare con una politica solo distruttiva? Non c'è nulla di costruttivo in ciò che dice Grillo. Secondo me questo è un vero pericolo. Buonasera al pubblico di Porta a Porta, buonasera agli occupi di questa sera.